Il mic è indieghi enti, Raffaele, perfetto, benissimo Raffaele, memorizzata la modulazione precedente, adesso darci tutto con il secondo microfono e vediamo se c'è l'inferente, quale, avanti. Ok, quindi questo è il blattonatissimo SM8 della Eco, che è ancora in tandem con il 765 USB, ovviamente non c'è concentratore né sull'uno né sull'altro, quello che stavo utilizzando prima è una cucchietta in microfono, Mario ancora se è giusto per un conforto, un confronto e un ruolo. Il mio frattonatissimo è un po' di effetto ambiente, un pochino di sembra più larga, però secondo me è che c'è un po' di effetto ambiente, mentre l'altra è un po' di effetto, un pochino ha buona rispetto a questo, capito? Grazie a tutti.